Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura una tragedia avvenuta nell'Agrigentino. Una bambina di sei anni invalida è morta soffocata dal latte, inutile la corsa all'ospedale. La procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta su una tentata violenza avvenuta in pieno centro. La vittima è una cinquantenne aggredita da uno straniero. Assolto il sindaco di Longi dalle accuse di concussione è falso. I fatti risalgono all'agosto 2018. Sarà processato con irrito abbreviato il frate Francescano Buccheri. Era stato arrestato nell'ottobre 2022 mentre cedeva a droga ad un detenuto. In chiusura il meteo è ancora bel tempo in Sicilia domani. Le province più calde saranno a Grigento, Ragusa e Caltanissetta. Per oggi è tutto, a domani. Buona serata.